A tu, a tu, a tu, a tuutti ragazzi e benvenuti, questo è il nuovo video di Geek e Claudio Oggi siamo qui con una nuova parodia Ok, parodia Allora, andate a vedere io, te, Francesca e Davide di Ambrangiolini e noi abbiamo pensato di fare E di Sirio Io, Pecca, Valkyria e Lapide Ok, lei è Valkyria, io sono Pecca E Lapide, sto cazzo Io sono io Io sono io Ok, siamo pronti? Io amavo il Pecca e la Marchiglia e la Lapide Io amavo il Pecca Però quando la Lapide conquistò il Pecca Perché fare facevano una torre insieme Allora la Valkyria si incazzò La Valkyria ogni giorno ti dà il buongiorno La Valkyria ogni giorno ti dà il buongiorno Ogni giorno ti sa stare bene La Valkyria è Valkyria e la Valkyria Non la fa la torre Quando gira il Pecca Il Pecca girava la Lapide E il Pecca lento e la Valkyria è veloce Perché, perché la Valkyria fu E il Pecca, perché la Valkyria è veloce Foglia è veloce Foglia è veloce Io lasciavo il Pecca e la Valchina lasciava il Lapide La Valkyria è veloce E la Valkyria è veloce E il Pecca è veloce Se il Pecca lasciava il Lapide si pecca lasciava il lapide alla fine io amavo volchiria e il pecca lasciava il lapide ok francesco molto bene abbiamo finito allora oggi noi faremo tre video visto che faremo tutto il giorno insieme questo è il primo poi subito dopo faremo un blog faremo una bernetta di omnibus una challenge oh ci sta ieti ok quindi facciamo anche la challenge ci sta ieti